È la luce, il primo elemento che accoglie il fedele nella nuova chiesa di Balconi di Pescantina dedicata a San Pietro Martire, in una simbologia che richiama la spiritualità e che porta verso Dio. È stata una costruzione lunga e complessa, da 50 anni Balconi attendeva una chiesa per circa 4.000 abitanti, per 4 anni la liturgia è stata celebrata in una sorta di capannone. Finalmente il progetto, ideato da Roberto Paoli, dello studio Nexus, ha dato una chiesa alla comunità. È stata maturata tutti questi anni qui, anche da intuizioni della chiesa precedente, che è iniziale da parte di Don Luigi Vicentini, che è stato il primo parroco per 36 anni in questa comunità di Balconi. Poi, con la consapevolezza di questo cammino qua, è maturato poi uno sviluppo successivo. La caratteristica è che, come ogni chiesa, vive anche della storia che era preceduta, quindi la chiesa è stata costruita nel luogo dove c'era la chiesa preesistente, o l'inizio della chiesa preesistente. Chiedevo qual è l'esigenza della comunità e mi dicevano che l'esigenza fondamentale della comunità è che la chiesa sia identificabile, un edificio identificabile come chiesa. Il cuore della chiesa è l'altare, in marmo rosso messicano, così come il fonte battesimale, con un profondo significato, come voluto dall'artista che lo ha scelto, Marie-Michelle Ponset. Sulle pareti le tavole della Via Crucis, della veronese Noemi Poffe. La chiesa è stata sostenuta per la metà con i fondi dell'8x1000 della CEI e poi con l'autofinanziamento della comunità parrocchiale in tutti questi anni. Il concetto di fondo è una chiesa che vuole accogliere, incontrare le persone, quindi anche la stessa forma architettonica vuole essere una forma di accoglienza del fedele, del credente, ma anche di chi magari è incuriosito dall'esperienza cristiana. La cosa anche che abbiamo visto, in un certo senso importante dal punto di vista architettonico, è una chiesa che non si impone nella località, ma si propone, quindi diventa visibile, però anche inserita nella stessa struttura architettonica delle varie abitazioni che la circondano.